Quali condizioni creare in Italia, in particolare all'università e nell'ambito della ricerca per lo sviluppo del 5G? Allora, noi sappiamo che la ricerca sta diventando in tutto il mondo sempre più interdisciplinare e transdisciplinare, cioè questo vuol dire che i ricercatori devono collaborare più tra di loro e devono collaborare con il mondo delle imprese, con il mondo delle attività che si svolgono al di fuori dell'accademia. Quindi il 5G è un ottimo esempio di come ricerca e impresa si fanno tutt'uno per creare un servizio che poi ha un effetto ancora positivo, ancora maggiore, sia sulla ricerca che sulla comunicazione e quindi sulla circolazione delle idee. Quello che noi dobbiamo fare è, dal punto di vista del governo, creare le condizioni perché la ricerca possa avvenire in maniera libera, innovativa, quindi finanziando sicuramente di più, dando stabilità agli enti di ricerca, alle università e favorendo un rapporto più diretto con le imprese. In molti altri paesi hanno investito molto sul trasferimento tecnologico, cioè hanno fatto in modo che i ricercatori collaborassero sin dall'inizio con il mondo delle imprese o comunque con degli operatori di marketing per capire se le loro iniziative, la loro ricerca potesse avere delle applicazioni dirette, nel breve termine o nel lungo termine. Questa è una modalità, se volete, molto più ibrida, in cui le università si aprono e il mondo della ricerca si apre, grazie sicuramente ad uno sforzo di investimento maggiore, però si apre al contesto generale della produttività del paese e fa in modo che le tecnologie e i saperi entrino in contatto tra di loro. Il 5G è un esempio, ma lo stesso vale per blockchain, intelligenza artificiale, così, tutte le grandi sfide del futuro. Quindi in questo scenario entrano in gioco anche i consorsi, perché? I consorsi sono un ottimo esempio di come si possa aiutare le realtà di ricerca, quindi università, enti pubblici, enti privati, imprese, a fare squadra. Significa mettere, ottimizzare le risorse a disposizione, creare delle convergenze su alcune tematiche che vengono considerate di importanza strategica, le telecomunicazioni, l'informatica e così via. Fare in modo che quindi si creino delle partnership orizzontali. Noi veniamo da un modello universitario di ricerca molto verticalizzato, quindi le istituzioni fanno più o meno gioco a parte, vivono del loro equilibrio interno e questo non favorisce la contaminazione delle idee. Sicuramente non favorisce neanche l'innovazione tecnologica. Abbiamo bisogno di strumenti che le costringano da un lato e le incentivino allo stesso tempo a muoversi in maniera più orizzontale. I consorsi sono un ottimo esempio, non sono l'unico esempio, ma sicuramente favoriscono anche a livello territoriale e settoriale delle strutture per poter ottimizzare le risorse che sono a disposizione. E per esempio dal punto di vista dei laboratori, dal punto di vista anche delle collaborazioni scientifiche, pescando ricercatori da vari realtà e facendone una rete comune. 5G Italy, un convegno organizzato dal CNIT, qual è il suo giudizio? Allora, la tematica del 5G è fondamentale. Io sempre, lo ripeto continuamente, dobbiamo sicuramente ogni volta che il decisore pubblico pensa a che tipo di investimento fare, soprattutto in tempi in cui le risorse economiche non sono moltissime, bisogna sempre pensare all'innovazione che verrà. Dobbiamo evitare gli effetti lock-in, quindi di investire in tecnologie che rieschiano di essere obsolete nel momento in cui vengono adottate e che poi ti vincolano in futuro. Il 5G è l'ottimo esempio della tecnologia del futuro, di una tecnologia aperta, una tecnologia che ci consenta anche di avere una struttura proprio infrastrutturale molto diversa. Quindi è importante che questo avvenga anche all'interno di un dibattito accademico, che porti le imprese e i ricercatori a lavorare in comune, perché poi alla fine chi deve prendere le decisioni, chi ha il governo, deve avere una mappa chiara di quelle che sono le evoluzioni scientifiche e fare in modo che se si fa un investimento sia per una durata lunga e non sia un investimento che rischi di essere obsoleto al momento dell'applicazione.